La domenica di buon mattino, le donne tornarono al sepolcro, portando gli aromi e i profumi che avevano preparato. Videro che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata spostata. Entrarono nel sepolcro, ma il corpo del Signore Gesù era scomparso. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi che ve lo disse quando era ancora in Galilea. Il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai nemici di Dio e questi lo crocifiggeranno, ma il terzo giorno risusciterà. Grazie.